Il governo ci aveva rassicurato su una soluzione che risolvesse il problema dei crediti incagliati, invece non solo non si prospetta nessuna risposta al problema, ma il governo blocca con un decreto dell'ultima ora, tranne i limitati casi, la possibilità di continuare ad applicare lo sconto in fattura o accedere ai crediti. Così il segretario generale di Confartigianato Arezzo, Alessandra Papini. Il blocco previsto nel decreto legge, dice Papini, coinvolge le tante imprese che sulla base delle norme sinora vigenti hanno effettuato investimenti e assunzioni nella prospettiva di poter continuare ad operare garantendo lo sconto in fattura, con buona pace degli obiettivi green che la misura avrebbe aiutato a raggiungere. A questo punto va trovata assolutamente una soluzione per i cantieri aperti o assisteremo ad una vera e propria ecatombe di imprese della filiera costruzioni con danni irreparabili per l'occupazione con un'incidenza sul PIL incalcolabile. Ci stiamo raccordando con i vari livelli per incontrare urgentemente i rappresentanti del governo e discutere una via d'uscita volta alla salvaguardia delle nostre aziende.